Ciao mio caro amico aspirante, trader, professionista e profittevole oggi è mercoledì 20 maggio 2020 e permetti di dimostrarti quel che ho fatto durante questa pitusa opening sull'SP1500 qui abbiamo questo rettangolo giallo che è ancora al gap aperto da venerdì scorso ieri abbiamo avuto una giornata con apertura inside, il giorno precedente e poi il mercato prima della chiusura ha rotto sotto il minimo pitusa precedente lunedì andando a creare due distribuzioni una qui e una qui come vedi la linea tratteggiata e punteggiata magenta divide le due distribuzioni durante la overnight session, Asia session e London session sono state a rialzo e in prossimità dell'apertura eravamo al di fuori della valo area high di ieri questa linea rossa a pochi punti di distanza dal massimo pitusa di ieri in questo scenario dove i volumi erano up io ho aspettato la prima occasione per posizionare 10 contratti buy non 5 ma 10, ho raddoppiato la mia size perché quando apriamo dentro il range precedente io raddoppio la size quando ho visto che il massimo pitusa si è fermato come vedi a un tick o 2 dal massimo pitusa di ieri come vedi qui ci sono due tick da queste due linee bene questo per me era un debole massimo pitusa e quindi non ho fatto altro che comprare al meglio dal punto di mezzo il mercato mi esegue i miei 10 contratti il mio stop loss è sotto il POC di ieri pitusa questa linea tratteggiata qua il mio target è proprio sopra al massimo pitusa sia dell'apertura sia di ieri dove c'era un grosso accumulo di liquidità vedi il mercato dopo la mia entrata come vedi ha preso liquidità intorno alla valo area high di ieri questa linea rossa per poi ecco finalmente andare a rialzo all'apertura della seconda della 5 minuti del footprint andando sempre più a rialzo e come vedi questo è il footprint a 30 minuti ti evidenzia ancora un bellissimo Rossuc long a 30 minuti e il mercato è andato a target e con questo trade che poi è proseguito ancora più a rialzo assegno la mia attenzione alla giusta mi sono portato a casa 1625 dollari per filtro caro amico se anche te vuoi tradare un potere divino il mercato dei fiusi e delle azioni e delle azioni scrivi la tua stella adesso e mandami il link sotto a questo video ciao ci vediamo domani